Bentornati a In Salute, il nostro format realizzato da Rete55 in collaborazione con l'Università dell'Insubera e cerchiamo così di fornirvi informazioni, sensibilizzazioni e notizie utili nell'ambito della salute, della sanità, delle patologie, dei disturbi e delle relative cure. Oggi con le nostre ospiti parliamo di un tema di cui non si parla mai abbastanza, seppur lo si fa obiettivamente sempre più spesso, il tumore al seno e tutta la metodologia utile a contrastarlo. Partiremo dal problema, cioè l'incidenza di questa malattia che purtroppo vede tante donne colpite ogni anno e poi la soluzione o comunque la lotta, la battaglia che spesso riesce a dare importanti risultati. Lo faremo con una grande esperta in materia, la professoressa Francesca Rovera che è responsabile della Breast Unit, ne abbiamo parlato spesso ma poi col suo aiuto cercheremo anche di capire che cos'è concretamente e come si muove, è anche direttore del centro di ricerche in senologia proprio dell'Ateneo dell'Insubera. Con lei Antonella Scorza, la nostra compagna di viaggio. Professoressa Rovera, cominciamo a inquadrare il problema perché è vero, se ne parla tanto ma mai abbastanza. L'incidenza è forte, la percentuale di guarigione anche, ma molto dipende da quanto è precoce la diagnosi. Ha detto perfettamente, purtroppo dal punto di vista dell'incidenza abbiamo una top nell'ambito delle patologie perché c'è un'incidenza che negli anni sta crescendo, abbiamo chiuso il 2022 perché i dati epidemiologici sono sempre un po' in ritardo, con oltre 55.000 casi di nuove diagnosi sul territorio nazionale. La nostra provincia non fa eccezione, ogni anno vengono diagnosticate tra 900 e 950 nuovi casi di tumore alla mammella, quindi sono numeri estremamente elevati. Basti pensare che sul nostro territorio attualmente ci sono oltre 834.000 donne che hanno combattuto o stanno combattendo il tumore alla mammella. Sono numeri che spaventano dal punto di vista epidemiologico ma che vanno necessariamente associati ai buoni risultati, direi molto buoni, che si ottengono dal punto di vista del combattere questa malattia. Infatti a fronte di una costante progressivo aumento della incidenza, quindi dei nuovi casi, c'è una costante sensibile riduzione della mortalità, quindi vuol dire che sempre più battaglie riescono a ottenere una vittoria dal punto di vista oncologico. Antonella, ancora una volta ci troviamo davanti alla parola d'ordine che è prevenzione e cultura della salute. Certo, importantissima in questo caso è la prevenzione. Come diceva la professoressa, appunto un risultato buono si può ottenere arrivando sempre prima, quindi sicuramente possiamo ricordare a tutti quanti l'importanza della prevenzione. Non è un concetto banale perché poi gli strumenti per mettere le mani avanti diciamo ci sono, ce li dà l'informazione, ce li dà la regione, ce li dà il sistema sanitario nel suo complesso, ce lo dà la cultura della salute, ma poi ci dobbiamo mettere del nostro. Quando dico del nostro parlo anche da maschietto perché noi non siamo proprio del tutto immuni dal problema, vero? Verissimo, perché noi parliamo sempre al femminile perché devo dire che questa è una patologia prevalentemente e non esclusivamente femminile. L'1% dei tumori della mammella si vengono diagnosticati nell'uomo, quindi il mio suggerimento è sempre quello di non sottovalutare eventuali cambiamenti nella forma del seno, anche se sappiamo che nell'uomo è rudimentale, quindi è una piandola che non è sviluppata come nella donna, ma eventuali cambiamenti, comparsa di noduli, di arrossamenti, di alterazioni dell'acute e del profilo cutaneo devono sempre essere un campanello d'allarme e mai sottovalutati. Tutte informazioni che poi vengono irrobustite dalla dote di slide, di foto, insomma di materiale anche visivo che la professoressa ha portato con sé. Allora chiedo alla regia di mostrarceli perché incominciamo a entrare un pochino di più nel cuore del problema attraverso per esempio la sua epidemiologia. Ecco qui i dati di cui parlava la professoressa sono abbastanza evidenti. Sì sono evidenti, soprattutto la curva che viene indicata nella parte sottostante di questa diapositiva indica che è vero abbiamo una fascia d'età nella quale il rischio di ammalare di tumore alla mammella è sicuramente maggiore e sono quelli a cui si rivolgono principalmente le campagne di screening mammografico presenti anche sul nostro territorio, ma vedete che la curva non inizia dai 40 anni o dai 50 anni, inizia ben prima e purtroppo stiamo osservando in questi ultimi anni anche un abbassamento dell'età alla diagnosi. Questo vuol dire che l'attenzione non deve essere mai bassa neanche nelle donne giovani, anzi nelle donne molto giovani, quindi iniziare sempre i controlli al termine dello sviluppo della ghiandola mammaria che avviene intorno ai 18 o 20 anni e non sottovalutare mai alcun dato, alcuna modifica clinica, alcun sintomo, alcun segno. È estremamente importante come diceva prima Antonella batterlo sul tempo. Abbiamo gli strumenti, abbiamo le armi ma le dobbiamo usare e la prima persona che deve essere consapevole di questo è la paziente, la donna stessa, le istituzioni, tutto ciò che noi abbiamo a disposizione dal punto di vista clinico, sanitario e medico è fondamentale, ma l'attenzione e la sensibilizzazione, cioè il pensare al fatto che nessuno di noi sia scevro da questo rischio deve essere della donna in primis. Andiamo una volta perché poi c'è anche questa che mostra la mappatura. Possiamo dire, professoressa, c'è una tipicità, cioè esiste una collocazione che fa pensare circa l'esposizione al rischio o è molto distribuita? No, devo dire che c'è una distribuzione geografica diversa. Faccio soltanto un passo indietro su questa diapositiva che io porto anche in università ai ragazzi quando insegniamo appunto la chirurgia senologica perché è una diapositiva di solo qualche anno fa e lascio il dato epidemiologico di allora. Erano 46.000 casi e non eravamo neanche dieci anni fa. Adesso siamo a quasi 60.000. Questo sta a indicare, e questo è il passaggio che spiego sempre ai ragazzi, sta a indicare quanto sia importante tenere d'occhio la situazione e la prevenzione perché l'incidenza e l'aumento del tasso proprio di incidenza di questa malattia è veramente galoppante. Piccola parentesi, voi siete donne, vi curate o vi trascurate? Perché talvolta poi gli è detto i lavori sono quelli primi che si trascurano. No, no, la psicologia è assolutamente molto. Sì, sì, assolutamente. Tutte e due, anche tu stai attenti. Anche io faccio già i controlli, sì, però in realtà per la mia età è giusto farli, quindi li faccio. È giusto, è doveroso e soprattutto dovete pure dare il buon esempio. Siamo sicuri che lo facciate. Andiamo avanti con i dati perché sono tanti. Qui siamo ai fattori di rischio. Ecco, sì, i fattori di rischio diciamo che questa è una schematizzazione per semplicità e tolti i fattori genetici che sono gli unici sui quali si possono dare delle informazioni che sono scientificamente corrette. Teniamo conto che circa il 10% dei tumori della mammella hanno un'origine eredo familiare. Genetico non vuol dire solo avere un familiare di primo grado che si è ammalato di tumore alla mammella o dell'ovaio, ma vuol dire aver fatto dei test genetici, che sono poi un prelievo di sangue, che vada a ricercare nel sangue di questa donna la presenza di eventuali mutazioni. Attualmente lo facciamo per tre geni principalmente che sono il BRCA1, BRCA2 e il PALB2. I geni BRCA sono i cosiddetti geni Angelina Jolie perché ecco lei che per prima ha lanciato pubblicamente l'attenzione diciamo essendo lei portatrice di una di queste mutazioni. Mutazione vuol dire che un gene non lavora bene, non funziona bene quindi non produce diciamo in maniera molto semplice una proteina la quale agisce principalmente come protezione a livello mammario e a livello ovarico, non solo in queste sedi, però direi principalmente in queste sedi e quindi non avendo questa protezione la donna con una mutazione ha un rischio decisamente superiore rispetto alla donna non mutata di ammalarsi in queste due sedi principalmente. Angelina Jolie, la star di Hollywood, sapete che poi è arrivata alla mastectomia preventiva sostanzialmente. Rivediamo la slide che riguarda l'attrice perché il virgolettato è piuttosto significativo. La vita ci porta innanzi diverse sfide dice il virgolettato in inglese e le sfide di cui non dobbiamo avere paura sono proprio quelle che ci consentono di giocare d'anticipo. Ecco questo in larga sintesi dice Angelina Jolie. Però adesso io la professoressa e anche la dottoressa Scorza chiedo di individuare il confine, il margine che separa la prevenzione dalla paranoia perché non vorrei che poi si spociasse nell'eccesso opposto e si corresse a fare interventi magari evitabili. Dove sta sto confine? Allora distinguiamo due ambiti, l'ambito diagnostico e l'ambito terapeutico. Nell'ambito diagnostico ci sono delle linee guida ben precise. A Varese sul nostro territorio esiste lo screening mammografico che propone alle donne dai 45 ai 74 anni d'età l'esecuzione di una mammografia che è annuale nelle donne 45 ai 50 anni ed è ogni due anni dai 50 ai 74 anni. Noi promuoviamo, crediamo molto nello screening, ovviamente va personalizzato. Ci sono delle pazienti in cui il rischio è superiore, le donne ad esempio mutate, in cui lo screening non è sufficiente. Noi ci rivolgiamo allo screening alla popolazione generale. Quindi poi per passare alla donna mutata o la donna quindi con un alto rischio magari per la conformazione delle proprie mammelle deve intensificare i controlli. Esistono ovviamente poi i controlli ecomammografici clinici, quindi anche al di fuori dello screening e le visite senologiche. In quest'ultimo periodo si è parlato molto delle visite senologiche, della loro importanza o meno. Io credo che ci sia una definizione che vada data. La visita senologica non è sufficiente da sola per arrivare a una diagnosi precoce e su questo siamo d'accordissimo. Quindi delle campagne che promuovono le visite senologiche come unico strumento diagnostico non sono campagne corrette. La visita senologica però fa parte di una triade, diciamo, diagnostica insieme all'ecografia e la mammografia nella fascia d'età ovviamente corretta che aiutano sicuramente alla sensibilizzazione, alla corretta informazione della paziente. Tutte le volte in cui abbiamo promosso sul territorio delle iniziative in cui abbiamo offerto gratuitamente le visite senologiche abbiamo avuto a parte una grande affluenza e poi non ci siamo mai limitati a dire con questa visita signora ha concluso quelli che sono gli accertamenti che noi consigliamo. Anzi, sono stati personalizzati in base alla storia familiare, all'età, alla composizione del proprio seno ghiandolare o adiposo e abbiamo incitato, assolutamente anche indirezzato, all'esecuzione delle mammografie di screening se nella fascia d'età. È ipotizzabile, telegraficamente, perché poi passiamo alla breast unit, che ci siano dei fattori, non lo so, ambientali, climatici, legati alla modernità che hanno aumentato l'incidenza? Sì, sicuramente, infatti nella diapositiva di prima abbiamo detto che i fattori genetici sono gli unici certi, su tutti gli altri fattori dobbiamo lavorarci molto, i fattori ormonali hanno sicuramente un ruolo, però sappiamo ad esempio che il 20% circa dei tumori della mammella non è ormonale, non è ormono responsivo, quindi vuol dire che in questi il fattore ormonale è sicuramente meno importante. Quello su cui dobbiamo lavorare principalmente sono i fattori dietetici, i fattori ambientali, anche perché, come diceva prima, c'è una distribuzione epidemiologica a livello mondiale, cioè non in tutti gli stati a livello del mondo ci si ammala allo stesso modo. e vediamo che se nelle pazienti, ad esempio, nelle donne del sud-est asiatico, dove c'è una più bassa incidenza di tumore della mammella, prendiamo una donna, la sradichiamo dal suo territorio e la portiamo nei paesi occidentali, non so, in America, New York e la lasciamo ovviamente per un lungo periodo di tempo, dopo 10-15 anni il rischio di questa donna è simile a quello di una new yorkese doc. Quindi vuol dire che non solo i fattori ormonali che si è portato ovviamente nel suo bagaglio biologico, ma sono anche dei fattori locali, vuoi legati alla dieta, al comportamento, all'attività fisica, a fattori in inquinamento che attualmente noi non conosciamo nei dettagli, ma che sicuramente condizionano lo sviluppo di questa malattia. Allora abbiamo parlato del problema anche con una certa profondità, con i tempi televisivi ovviamente perché ne dovremmo parlare di più, però adesso andiamo alla soluzione o comunque a ciò che aiuta la soluzione, cioè la breast unit. il suo funzionamento, le sue dinamiche e anche diciamo così un minimo di genesi. Con una pre-domanda che faccio ad Antonella, ancora una volta ci troviamo davanti a un sistema basato sulla multidisciplinarietà, su risposta di rete. Assolutamente, infatti nella breast unit ci sono più figure, insomma ci sono più professionisti, adesso ci dirà poi bene la professoressa da cosa è composta esattamente, quindi non solo chirurghi, ci sono anche altri professionisti che aiutano la donna nel suo percorso, infatti anche tutte le decisioni sono prese insieme. Ecco, è così giusto, è un gioco di squadra che comprende tante figure, non solo medici tra l'altro. Assolutamente, è un team dedicato e specializzato del prendersi cura della donna. La vera differenza, il vero salto di qualità, il vero atteggiamento pionieristico che è stato fatto nella mammella e che adesso sembra riprodursi o tentare di riprodursi per altri tipi di patologie, per altre unit che non sono soltanto quelle senologiche, proprio questo, avere un team dedicato di personale medico, di personale infermieristico, che vedete qui in parte rappresentato perché non tutti potevano essere presenti nella foto, ma che comunque gli indica la numerosità delle persone, perché noi dobbiamo abbracciare la paziente, nel senso che metterci insieme, ciascuno con le proprie competenze, prendersi cura delle pazienti. Le pazienti che hanno un tumore della mammella hanno la possibilità di affidarsi ad un team che non si prenderà cura solo della parte chirurgica, della parte oncologica, farmacologica, della radioterapia, ma di tutti gli aspetti, compresa la riabilitazione psicologica, la riabilitazione fisica, comprese le terapie complementari che tutte aiutano in un gioco davvero di squadra a portare fuori dal tunnel queste pazienti. Sì, vorrei anche sottolineare l'importanza dell'alleanza di Ferro col terzo settore, associazioni, ma anche amministrazioni pubbliche, tutto ciò che fa sistema e fa sentire la donna meno sola, perché bisogna dire il progresso scientifico e anche tecnologico e clinico e nella ricerca c'è stato, ma pure il progresso sociale che ha fatto in modo di tenere inclusa e coinvolta la persona colpita ha fatto la differenza. Assolutamente, la collaborazione col terzo settore è quotidiana, noi abbiamo la fortuna di avere delle associazioni di volontariato molto attive sul territorio che ci splonano a volte e ci aiutano nell'organizzazione e nella sensibilizzazione della popolazione e poi sono proprio presenti perché sono la voce delle pazienti, quindi portano a noi, che a volte ovviamente siamo rigini nel nostro orario, nelle nostre competenze, portano quelle che sono le necessità, ma le necessità più intime di queste donne e questo fa veramente il passaggio dal curare il tumore alla mammella al prendersi cura di una donna malata. Facciamo un riassunto prima di chiudere di cosa succede, una donna fa le visite che deve fare, scopre di avere un tumore, decida lei a che stadio, cosa succede da quel momento? Da quel momento la paziente viene presa in carico, quindi viene fatta una stadiazione della malattia che vuol dire devo andare a vedere dove è arrivata la malattia, se interessa solo la mammella o il linfonodio, ha dato delle localizzazioni a distanza, quindi il team multidisciplinare che da noi si riunisce ogni mercoledì pomeriggio, abbiamo la possibilità di discutere la paziente, non il caso clinico, ma la paziente che è diverso, si discute di quella paziente personalizzando le terapie, viene stilato un programma di cura che viene comunicato alla paziente, che viene accompagnata nel caso chirurgico all'intervento chirurgico, viceversa ci sono delle pazienti che iniziano un percorso oncologico-farmacologico prima, quindi viene accompagnata dall'oncologo, ma tutto in un passaggio interno di gruppo, così la paziente non ha la sensazione di andare da un reparto all'altro, è un team unito. Il vantaggio della breast unit è proprio questo, non è che prima del 2016 quando poi sono state istituite le breast unit non si curassero i tumori della mammella, li si curavano assolutamente bene dal punto di vista scientifico. Il vantaggio in più della breast unit qui in Regione Lombardia è stata davvero pionieristica perché ne ha istituite ben 37 sul territorio lombardo, è stato quello di dare dei reparti dedicati dove la paziente è al centro di questo passaggio di consegni, di questa comunicazione, di questa decisione collegiale e si sente veramente centralità di questa paziente. Grazie infinito con la professoressa Rover che è un fiume in piena, vedete anche quanta passione mette in ciò che fa, è stato detto davvero tanto, l'abbiamo fatto in pochi minuti ma credo in modo piuttosto esaustivo. Antonella, ti chiedo alle signore, alle ragazze che ci seguono, puoi lanciare un appello sull'importanza della prevenzione? Sì, sicuramente questo cambia, anche se può far paura, però sicuramente aiuta ad affrontare eventualmente il problema, ma prima e quindi con migliori prospettive. Quindi rispondete presente alle visite, rispondete presente alle opportunità dei consultori, a tutto ciò che può consentirvi di avere le idee più chiare sulle vostre predisposizioni, sul vostro stato di salute. Grazie alla professoressa Rover per tutto ciò che fa e per la sua presenza oggi, grazie Antonella Scorza, a tutti voi per l'attenzione. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS